Il nostro inconscio vuole appagare le proprie esigenze, come del resto anche la nostra istanza logica vuole appagare le proprie esigenze. L'istanza logica tenta di appagare le proprie esigenze attraverso le regole, le regole impartite e queste regole rappresentano il mondo dell'istituzione in qualsiasi contesto esse siano applicate. Ecco, queste regole che hanno uno scopo ben preciso, quello di pilotare le emozioni in sostanza, affinché queste emozioni possano mantenersi all'interno di quel percorso regolato. L'inconscio invece ha l'esigenza di rigenerare praticamente le emozioni, quindi mentre la parte logica ha poi come sintesi l'esigenza di appagare i bisogni, le esigenze, l'inconscio invece ha l'esigenza di rigenerare queste esigenze, perché se sono appagate poi non saranno più espletate se non attraverso una nuova rigenerazione.